Oggi è l'epifania del nostro Signore Gesù Cristo. Epifania è una parola che deriva dal greco e che significa manifestazione. La manifestazione si fa normalmente quando ci si raduna per un qualcosa di importante, perché si desidera manifestare a qualcuno o un disaccordo oppure un qualcosa di estremamente bello. Pensiamo anche alle manifestazioni grandi della GMG che tra poco vivremo in quel di Panama. La manifestazione che celebriamo oggi è l'epifania, cioè è una manifestazione specialissima perché è la manifestazione di Gesù. E oggi è tradizione mettere i tre remagi davanti alla grotta nel presepe. E questo è un gesto meraviglioso perché mettere gli ultimi, quelli che arrivano da più lontano, quelli che sono più lontani davanti a Gesù, superano tutti, arrivano a superare anche i pastori che sono i primi che hanno visto Gesù. Questa è una tradizione che ci fa comprendere che tutti sono messi sotto la protezione di Gesù e che Gesù vuole tutti, nessuno escluso, davanti a lui. Ma allora chi sono questi magi? Alla fine sono degli astronomi curiosi. Pensano che c'è un oltre. Hanno capito che c'è qualcosa di grande nel cielo. Hanno il desiderio di vedere oltre, di andare oltre alla normale routine della vita. Tu desideri veramente andare oltre? Tu desideri veramente incontrare Dio? Ecco, i magi seguono il loro desiderio, la loro intuizione, ciò che hanno nel cuore. Si mettono in strada seguendo una stella, seguendo appunto il loro desiderio che illumina le tenebre della loro vita. Seguono un desiderio e non osano tarparlo. Un cammino lungo, un cammino difficile, un cammino pieno di imprevisti e anche di sconfitte. Proprio come il cammino di fede di ogni cristiano. Però alla fine trovano la pienezza di vita. Trovano ciò che non avevano immaginato. Pensavano di incontrare un ricchissimo re. Invece trovano un bambino povero che però riempie il loro cuore. Dalla parte opposta dei magi si vede invece Erode, uno che è ripiegato su se stesso, che vuole eliminare tutti, che si mette lui al posto di Dio e non ha neanche timore di Dio. È ossessionato dal potere, vuole solo apparire, ha paura di non essere qualcuno nella vita e vuole solo cose concrete tra le mani. Ha una visione puramente orizzontale, non guarda al cielo come fanno i magi. I magi arrivano a Betlemme e non a caso Betlemme significa casa del pane, perché è la casa dove abita Gesù e infatti è Gesù che ci nutre la vita. Sono partiti per trovare un re e hanno trovato un bambino. Quando ci mettiamo veramente alla ricerca di Dio può darsi che troviamo ciò che non abbiamo mai immaginato e mai pensato, ma alla fine troveremo una sorpresa talmente grande e talmente bella che rincuora tutta la nostra aspettativa. Alla fine i magi sono cercatori di Dio che hanno trovato la meraviglia dell'incontro con Dio. Allora in sintesi potremmo vedere tre punti brevissimi del cammino dei magi. Il primo è proprio camminare come i magi, perché non dobbiamo stare fermi come Erode, dobbiamo metterci in cammino, viaggiare con il cuore sospinti dal soffio del desiderio. Occorre cercare delle stelle che ci conducono a Gesù. Bisogna incontrare degli uomini e delle donne che illuminano le nostre tenebre e ci conducono alla pienezza di vita. Un secondo punto può essere che per cercare Dio bisogna uscire dagli schemi della nostra quotidianità. Bisogna saper correre dietro a un sogno, a un'intuizione che si ha nel cuore. Guardare oltre. I magi sono un piccolo gruppo che guarda nella stessa direzione. Fissano il cielo, ma sono attenti a ciò che succede nella vita. Ecco, cercare Dio vuol dire cercarlo insieme a qualcuno, mai da soli. E un terzo punto del cammino dei magi è proprio che non bisogna temere gli errori. Meglio camminare e sbagliare che stare fermi pensando di essere nel giusto. Arrivano nella città sbagliata i magi, parlano del bambino con Erode, perdono a un certo punto di vista la stella, ma non si arrendono ai loro sbagli. Hanno l'infinita pazienza di ricominciare, finché non trovano ciò che hanno cercato, ciò che hanno sognato, cioè Dio. Allora, in conclusione, possiamo definirci tutti dei cercatori di Dio. Mettiamoci in cammino, perché è un bellissimo viaggio. Seguiamo la stella, cioè quelle persone che ci portano a Gesù con gioia. Per incontrare Gesù nella vita non basta una fede da tradizione. Occorre camminare, mettersi in gioco, scommettere sulla gioia. Dio si lascia trovare solo da chi lo cerca e non da chi lo ignora. Allora pensiamo di essere nel presepe al posto dei magi. Stanchi dopo un lungo viaggio, ma felici di aver trovato Dio. Un po' sfiduciati per le sconfitte del cammino, ma apprezzati dal piccolo Gesù. Con dei regali tra le mani, sapendo che il regalo più grande è proprio aver scoperto la presenza di Dio nella nostra vita. Riscopriamo la nostra vera epifania. Poniamoci una domanda. Quando Dio si è svelato nella tua vita? Magari tramite un ritiro spirituale, magari in una confessione, magari durante una messa, oppure con una semplice chiacchierata con un prete o con una suora. Ecco, riscopri la tua epifania. Dio, avendo accolto i magi, ha un messaggio chiaro per ognuno di noi. Non esclude nessuno. Allora vieni, mettiti in cammino. Sicuramente Dio non ti deluderà, ti farà scoprire la pienezza della vita. C'è un Dio che cerca tutti coloro che lo vogliono cercare. Allora, buon cammino, cercatori di Dio, cercatori della luce, cercatori dell'amore e della pienezza di vita.